Adisti ed eccoci! Test long run, test verità, Seagway 9W Mini, spettacolare! Così ve lo facciamo vedere esattamente con le luci, adesso quando gira, va a giancarla, ecco la freccia! Ha girato, è led, avanti per illuminazione, guardala come va, tutta bella contenta, guardala, guardala! Spettacolare, abbiamo scelto di tenere un monocromatico posteriore, va la frecciatina gialla, sta girando! Posso anche portarmi la portata! Eccola, fate conto, se lo porto anche a letto! Va bene, signori, test verità, 9W Mini, un prodotto spettacolare che a nostro parere rivoluzionerà completamente la mobilità urbana, semplicemente spettacolo! Un saluto dal Ferro e dalla Giangi, dalla squadra Corsa e qua desti.it, va che gira, guarda la freccia, spettacolo, spettacolo! Ciao ragazzi!